Centili telespettatori, buona giornata. Rassegna stampa di oggi domenica 17 luglio 2022. Il Corriere della Sera. Muro di Conte, nuovo ultimatum. Chiarezza sui nostri punti o usciamo? Appello di sindaci e imprenditori. Draghi va avanti. La crisi, contestazione alla linea del leader tra i parlamentari dei 5 Stelle. 50 pronti alla fiducia. Appello di Letta all'Unità. Che cosa succede? Che i grillini dopo 30-35 ore si sono accorti che quello che hanno fatto fa finire il loro stipendio. Probabilmente fra 60 giorni saranno disoccupati con stipendio zero. E allora 50 adesso vogliono di nuovo votare la fiducia a Draghi. Ma probabilmente Draghi non ha più nessuna intenzione di tornare indietro. Ormai quel che è fatto è fatto. Quindi 50 pronti a cercare di riprendersi lo stipendio. La Lega è impegnata ma dai pentastellati un danno che resta. Si deve continuare senza più dilettanti. Il PD non sarà solo dilettanti. Ovviamente si riferisce ai 5 Stelle. Veti, paletti e sconforto. Il mosaico si sta rompendo. E poi il Dibba Che Guevara torna a sognare la sua rivoluzione. La finanziaria con questo premier o pagheranno i poveri. Cosa vuol dire? Che da uno studio ci sono circa 50 miliardi a rischio. Perché c'erano molti provvedimenti, uno di fine mese, che erano indirizzati al taglio delle bollette. C'era da mettere il salario minimo, il cuneo fiscale. Insomma, questa crisi va a compromettere 50 miliardi di aiuti per le fasce economicamente più deboli. E poi il reddito di cittadinanza, modifiche e soprattutto il salario minimo. Sciopero. Oggi a terra le low cost. Il caos dei voli 1 su 4 sarà cancellato. Toscana, ex campione del mondo di Formula 1. Rai Conen. Il pilota, il cane in auto e una coppetta d'acqua. E poi andiamo a vedere incendi in tutta Europa. A caldo record nelle città, Milano e Londra verso i 40 gradi. A Londra non era mai successo. Andiamo a vedere la Repubblica. Conte ultimatum a Draghi. Lo scontro nella maggioranza. Il leader 5 Stelle avverte risposte chiare. O non potremo condividere una responsabilità diretta del governo. Nel movimento tira aria di rivolta. Una trentina pronti a votare la fiducia Enrico Letta ai grillini siate della partita. Quel bivio tra coesione ed estremismo. Del Regno Unito al Portogallo. La morsa dell'AFA e del fuoco. Emergenza. Clima. E vediamo la stampa. Di Maio accusa Conte. Metti a rischio l'Italia. Leader 5 Stelle. Chiarezza sui nostri punti o fuori. Ma in 40 sono pronti a lasciarlo. E poi il Rebus Draghi. La mediocrazia e la trattativa Stato. Partiti. E dove il Grillo Silente. Che scatena la valanga. E poi vediamo. Spiraglia Palazzo Chigi. Pretendiamo garanzie. Letta deluso. Ma spera. Ascoltiamo il paese. Sale il pressing su Salvini. I ceti produttivi frenano. Ma dai dati Istat di Pagnoncelli. I ceti produttivi non votano per Salvini e per la Lega. Gli imprenditori votano PD. Mentre la gran parte della classe operaia vota proprio per la Lega. Non so perché continuano a parlare di ceti produttivi accostandoli a Salvini. Neanche gli autonomi votano più Lega. Ma votano per Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia al 50% sono autonomi o piccoli imprenditori. E l'altro 50% sono impiegati e operai. Poi vediamo che cado, mi rialzo e vinco, il tennista Matteo Berrettini. La mia corsa per i diritti è a campionesta all'Ison Felix. E andando giù vediamo che gas, vapore, tavolini parlanti, basta il nichilismo climatico, eccetera eccetera. Ma andiamo a vedere Libero Quotidiano. E vediamo questo titolo. Altro che Biden e poteri forti decidono Matteo e Silvio. La sinistra mobilita la comunità internazionale per convincere Draghi a non lasciare. Ma se lui ci ripensa, l'ultima parola sul governo spetta solo a Lega e Forza Italia. Beh, questo è un titolo che non ha nessun senso. Tutti sono l'ago della bilancia. Il governo lo può far cadere Conte, lo può far cadere Berlusconi, lo può far cadere Salvini, lo può far cadere il PD. Quindi dire che decidono Salvini e Berlusconi non vuol dire assolutamente nulla. Fa più ridere del guru fondatore, il vero comico grillino è Conte. Per l'economia è meglio votare ora che a marzo. Il Colle è pronto a sciogliere il Parlamento. E poi il premier stratega vuol lasciare prima che il paese crolli. Perché Mario senza grillini non va avanti, offerte speciali di Maio cerca di arruolare ex compagni, propaganda dem, PD indecente, dà la Lega le sue colpe. Andiamo a vedere il giornale. Conte paralizza l'Italia, tutti ostaggio dei suoi ricatti. Ennesimo ultimatum a Draghi, ci ascolti o usciamo dal governo. Ma oltre 50 dei suoi sono pronti a mollarlo. E il premier fa i conti. Conte fa i conti e anche il premier fa i conti. La crisi blocca fisco e grandi opere, appello di sindacati e imprese. L'amico di Putin fa cadere il governo. L'amico di Putin sarebbe, come si dice, Conte. Conte e andiamo a vedere il fatto quotidiano. Conte a Draghi, impegni sui nuovi punti o fate senza di noi? Governo le condizioni del capo 5 Stelle per restare se non votiamo caso per caso. Ma quello del votare caso per caso l'aveva detto anche Salvini due o tre giorni fa. Ha detto adesso noi voteremo quello che ci interessa. Quindi, beh, poi vediamo. I 5 Stelle lasciano aperto uno spiraglio e ripassano la palla al premier, ma i falchi del bis non li vogliono. Salvini pressato dal partito del nord non parla più di voto. Beh, sino forse prima voto, adesso Draghi. Salvini va dove tira il vento del momento e poi, se cade, non è un dramma, il colle diluisce. Intervista allo storico Luciano Canfora sulla crisi. Vediamo la verità, il mistero del cellulare della talpa, consegnato al consulente della procura, aperta la caccia al grillino pentito, tentativi disperati per salvare un esecutivo finito. Allora, la caccia al grillino pentito che ha paura di perdere lo stipendio non serve, perché Draghi, senza il Movimento 5 Stelle, ha lo stesso un'ampia maggioranza. Quindi anche questo titolo, aperta la caccia al grillino pentito, in realtà non è come l'ultimo governo che era accaduto, dove Conte cercava i responsabili. Qui non c'è bisogno di cercare persone per avere il numero per la fiducia di Draghi, ce l'ha già. Continua il pressing, ci si mettono pure i sindaci, PD e Quirinale puntano a polverizzare il Movimento 5 Stelle e convincere più onorevoli possibili a ricucire. Imbarazzante video di Conte, non volevamo rompere, ma senza risposta dal Premier, sui nostri punti siamo fuori. Centrodestra, mai più coi pentastellati. Ah beh, è facile dirlo quando cadono i governi, no? Mai più, mai più. Hai fatto 17 mesi con i 5 Stelle e col PD, adesso è facile dire mai più coi pentastellati, vabbè. Draghi per ora non pare disposto a rientrare, comunque va dalla tecnocrazia incassata un'altra sberla. Prima ti trattano da bambino, poi hanno paura dei ribelli, i ricatti si fanno grotteschi, cade il governo, addia PNRR, tetto a gas e aiuti della BCE. E poi andiamo a vedere il tempo, al voto, al voto, crisi di governo, tutti invocano il ritorno di Draghi, ma nessuno fa concretamente qualcosa. Renzi, Salvini e il PD aprono la campagna elettorale alle urne forse il 25 settembre. Comizio flop di Conte, il Premier ci ascolti o sarà? No, deputati grillini in rivolta per lo stipendio. Lo sconforto di Super Mario, l'unità nazionale resta un miraggio e se ti promettiamo che da domani spegniamo tutti i condizionatori? Bella questa, eh? E poi vediamo bocciata la sanità del Lazio e la quattordicesima classifica, secondo uno studio, su qualità delle cure. Ecco, e vediamo il messaggero che titola governo pressing su Draghi, USA, Unione Europea, Parti Sociali e Chiesa spingono per la permanenza del Premier e lui niente diktat, ultimatum di Conte, il Premier deve darci risposte, i grillini si spaccano. In 20 voteranno la fiducia, i troppi centri decisionali per la politica industriale. Di Maio Conte vuole le elezioni per azzerare gli elettori del Movimento 5 Stelle, mentre Di Maio non le vuole perché deve mantenere il suo stipendio. Via le slot machine nel Lazio, a rischio 12.000 posti di lavoro. Il Sole 24 ore ci racconta, voli cancellati, decollano solo le cause, mancati rimborsi per oltre 2 miliardi. Cresce il pressing su Draghi, Conte, risposte o usciamo. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.